C'era un'atmosfera bellissima, una bella luce, un sacco di gente che partiva, che arrivava, una fermata di auto. Solo adesso mi ricordo che forse stava finendo un'epoca. Lei era una ragazza greca, molto carina, veramente carina. E non certo bella come te, tu sei molto più bella, molto. Li vedi delpini? No, sono Tony. Allora, non lo vedi delpini.